Questo è un luogo particolarmente paradigmatico rispetto alle dinamiche in corso in tutta la città di Milano ormai da parecchi anni. Infatti da una parte abbiamo delle grosse e gravi sacche di precarietà e disagio abitativo e dall'altra delle fortissime spinte di gentrificazione che portano ad un aumento sconsiderato dei prezzi di affitti e compravendite che causano l'espulsione di buona parte delle persone che vivono in questi quartieri e che vedono così spezzate le loro reti sociali, impoverendo così il tessuto poi stesso di tutto il quartiere. Abbiamo promosso una raccolta firme, stiamo facendo assemblee nei nostri quartieri, organizzeremo dei momenti di approfondimento e di formazione proprio per specificare meglio quelle che sono le nostre proposte che erano contenute anche nella petizione, che vanno da meccanismi di calmerazione del mercato all'intervento pubblico nel recupero di appartamenti da affittare a canone sociale, alla limitazione degli affitti brevi e così via. Noi siamo convinti che il problema della casa non possa essere una questione privata, ma che debba essere oggetto di mobilitazione ed elaborazione collettiva e che debba essere affrontato con politiche pubbliche strutturali.